Il caffè è molto aromatico e si presta ad abbinamenti sorprendenti. Lo avete mai provato con un pizzico di liquirizia? Vediamo come farlo. Innanzitutto dobbiamo spezzettare un po' di cioccolato bianco. Il cioccolato bianco servirà per equilibrare i due gusti decisi, sia del caffè che della liquirizia. L'importante è tagliarlo molto sottile, perché il cioccolato bianco poi andrà a sciogliersi all'interno di un bicchierino e andremo a riscaldare. Bene, fatto questo mettiamo un po' d'acqua calda direttamente dalla macchina all'interno del bicchiere. Riempitelo quasi fino all'orlo in modo da avere la temperatura corretta. Lo appoggiamo qui per qualche secondo ed andiamo ad abbinare le liquirizie appunto con il cioccolato bianco. Basta pochissimo ed è già sufficiente per sentire il gusto deciso della liquirizia. Fatto questo vi consiglio di mescolarlo un po'. Tagliarlo ancora un po' se vedete che i pezzettini sono troppo grossi. Asciugare il bicchiere semplicemente con un panno e poi aggiungere la liquirizia e il cioccolato bianco all'interno. In questo modo. Come vedete piano piano il cioccolato, grazie alla temperatura molto elevata del bicchiere, si andrà a sciogliere. Vediamo come aggiungerlo e lo lasciamo qui. Bene, fatto questo dobbiamo preparare il caffè espresso. In questo caso utilizzo un caffè espresso lungo perché ci servirà per fare due preparazioni. Infatti adesso come vedete utilizzo due bricchi, in uno metterò del ghiaccio per creare una schiuma di caffè, nell'altro invece metterò la parte restante del caffè espresso che servirà per creare una base. Intanto che prepariamo il caffè andiamo a prendere il ghiaccio. Potete utilizzare il ghiaccio a cubetti, io preferisco il ghiaccio tritato perché si miscela meglio con il caffè ed è anche più facile da lavorare. Soprattutto se desiderate potete aggiungere un po' di zucchero liquido, io metto sempre 5 millilitri, quindi qualche qualche goccia di zucchero che ci vuole un po' di dolcezza. Bene, versiamo il caffè espresso prima in un bricco, aggiungo un po' di espresso nel ghiaccio, più o meno la metà della preparazione, poi andiamo a mixarlo per una decina di secondi in modo da creare una soffice schiuma. Bene, fatto questo ci avviciniamo al bicchierino, come vedete il cioccolato liquido assieme alle liquidizie si sono già sciolti e hanno creato una base compatta, molto delicatamente andiamo ad aggiungere il caffè espresso. Molto bene, qui bisogna stare molto attenti. Attenzione prima di versare la schiuma, muoviamo un po' in modo da amalgamare la parte liquida e poi delicatamente, se volete anche con un passino in modo da rimuovere il ghiaccio se non vi piace, io preferisco utilizzarlo. Andate a versarlo delicatamente in superficie, vedete il ghiaccio resta sopra il caffè, quindi abbiamo una base calda, il caffè espresso caldo in centro e sopra questa schiuma di caffè espresso. Io direi che questa ricetta può essere degustata anche come un dessert, quindi potete utilizzare il cucchiaio. Molto buona, tieni, tieni, guarda, te l'hai lasciato il fondo.